Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa prima live su Milan Inside, oggi ci andremo a guardare insieme Milan Sampdoria e niente io vi invito ad iscrivervi, attenzione, Shamil435, grazie mille per il follo caro e benvenuto vi ricordo di iscrivervi al canale Twitch dove faremo sempre le live reaction del Milan e porteremo in futuro anche contenuti di alto livello diciamo abbiamo già in mente varie idee e per rimanere sempre aggiornati comunque sul mondo rosso-nero vi invito anche di seguirci su tutti i nostri social, dirra e grazie per il follo, ciao dirra e niente ragazzi la partita sta per iniziare, vi leggo le formazioni Milan, Donnarumma, Salimaker, Schier, Tomori, Teo Hernandez, Ben Nasser, Chessy, Castieco, Cialanoglu, Krunic, Ibraimovic formazione Sampdoria, Audero, Augello, Collei, Tonelli, Berezinski, Candreva, Torsby, Silva, Dansgard, Gabbiadini, Quagliarella e si inizia, buon Milan Sampdoria a tutti quanti calcio d'angolo Samp, palla dentro, Kier, palla che resta ancora lì però via ragazzi, via ragazzi sì, mettete giù quel pallone, bravo, no, Salimakers fa un assist a Candreva palla in aria, palla, mamma mia ragazzi no, non va bene ragazzi così Gabbiadini ha provato un, penso, sì, era un tiro fondamentalmente pensavo fosse un cross, invece era un tiro, stava per scavalcare Gigio che la mette in calcio d'angolo attacco la Samp, cambio, gioco per Candreva Candreva, cross in mezzo Tomori respinge per Cialanoglu, niente palla recuperata, Torsby ho giocato 0-0 primo tempo, 1-0 per noi, risultato finale, minchia, bella combo però vediamo, a me preoccupa sta situazione cambio di gioco attenzione, Quagliarella, spalle, girate la porta prova il tiro, Ugello, mi sa che era sì mamma mia, Donna Roma para tiro per fortuna debole Gigio para senza problemi ho superato ufficialmente la metà di questo primo tempo fallo sulla sulla rimessa laterale, diciamo, per la Samp fallo di Teo Hernandez sul fondo, diciamo vicino all'area quindi sarà sicuramente un cross dentro vedremo come si svilupperà questa situazione però eh sì, Teo sì, sì, sì con le fallo far rivedere l'azione qua mamma mia, ma guarda ah no, palla ah no, Gabbiadini tocco sotto ah, Damsgaard, ok Gabbiadini tocco d'esterno di prima in area per Damsgaard da solo davanti a Gigio ma Teo ha fatto un super intervento per recuperare eh, occhio ai cross di Candreva mi raccomando non perdiamo marcature Candreva palla dentro colpo di testa Torsby Donnarumma mamma mia Gigio mamma Gigio mamma Gigio mamma Gigio miracolo di Gigio Torsby completamente da solo colpisce di testa super parata di Donnarumma super riflesso questo è un super riflesso ah oh, Matt grazie per il follow, Matt attenzione è uno schema sbaglia tutto però può ripartire il Milan con un'ultima azione di questo primo tempo Teo Hernandez accende il motorino sì, Teo accende il motorino guarda Akan guarda Akan oh, ma guarda Akan c'ha la no eh, Teo guarda cazzo guarda Akan Teo era completamente da solo ok, che ha preso un fallo ammonito Adrien però cazzo ma da lì c'era Cialanoglu da solo lanciato in porta ne avevi tre addosso ne avevi c'ha fatto un gran lavoro perché è partito dall'aria per carità ma guardate cioè guarda ne aveva addosso guarda Cialanoglu che era era da solo era da solo ma io mi chiedo perché niente mi febbi che una tipa vende la maglia di cacota graffa mi viene da piangere minchia eh, Teo si impunta sempre sì, ma così no, cazzo c'era Cialanoglu completamente da solo punizione dalla distanza cioè distante comunque dalla porta ancora sulla palla Ibra adesso la tirerai in tribuna parte Ibra attenzione palla rasoterra per Cialanoglu era una bella idea ma non riesce a a stopparla e finisce qua il primo tempo fuori sale i makers dentro Cialulu mmm non lo so non lo so non lo so vediamo tutto pronto si sta per ricominciare e si ricomincia con il secondo tempo di Milan Sampdoria palla per la Doria prova il lancio come ha fatto all'inizio il Milan adesso le due squadre attaccheranno la Samp sotto la curva sud e il Milan sotto la curva nord oggi strano Ben Nasser spazza palla per Ibra ecco le fallo però su Ibra bravo Ibra Tonelli asfalta Ibra strano da dire però è stato così però è stato così dai dai Teo 1-0 Sampdoria no raga quagliarella no ragazzi Matteo Hernandez ma che cazzo fa Anthony grazie per il follo ma che cazzo fa Teo Hernandez ma cosa fa Teo Hernandez ma dati una svegliata ma non ma punizione del Milan che si la giocata Teo Hernandez Teo Hernandez la gioca di culo c'era Donnarumma sul dischetto del rigore quagliarella recupera palla fa un pallonetto Donnarumma 1-0 ma che cazzo fa Teo Hernandez ma che cazzo fa Teo Hernandez Simo grazie per il follo no ma regà ma dai ma cos'è sta maialata ma cosa fa ma cos'è sta maialata ma Teo Hernandez ma per piacere niente ragazzi c'è troppa leggerezza al dodicesimo del secondo tempo quindi cinquantasettesimo no ragazzi no eh c'è ancora la sapo che attacca oh Ale grazie per il follo grazie per il follo e benvenuto Ale involuzione da paura cartellino rosso però attenzione fermi tutti scusate se non ho letto cartellino rosso per Adrian cartellino rosso per Adrian fuori Ben Nassare Krunic dentro Tonali Rebic Anthony non devi non devi la speranza è l'ultima a morire ragazzi non devi assolutamente Keita Keita attenzione sbaglia passaggio può ripartire al Milan ultime occasioni per almeno il pareggio Ibra Ibra palla perché si che si che si serve Aug 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 rientra Aug Aug prova il tiro Aug Aug il follettino il follettino il follettino grande gol minchia che gol Aug oh GG GG regà il norvegese il follettino grande gol di Aug Ibra lo serve che si che si serve Aug Aug e Schaudero si stoppa e poi piazza un girello sul secondo palo ma regà ma sempre soffrire così però sempre soffrire così sempre mamma mia siamo all'ottantasettesimo ancora ottantasettesimo palla per Aug Aug palla per Teo Hernandez Teo palla per Rebic Tonali palla per Ciala Ciala zona tiro Ciala Noglu prova il tiro Audero para sulla respinta rimessa laterale Milan mamma mia mamma mia bella Rob mamma mia finale incandescente super occasione adesso per Ciala palla per Tonali Tonali per Calulu Calulu finta di cross Calulu palla dentro Colle anticipa Rebic palla che resta lì non far fallo Kier non far fallo no fallo riparte la Samp Tonali palla per Ciala Ciala fuori dall'aria prova l'imbucata Ibra Ibra palla per Ciala che si no incrocio dei pali no non ci credo non ci credo eccola qua l'occasione eccola qua eccola qua palla per Ciala no che si palla per Ciala ancora in aria Ciala Ciala provo il tiro l'è spinto spazzano non ci credo non ci credo non ci credo Teo palla per Aughe Aughe ancora per Teo non va rimessa dal fondo due minuti alla fine e finisce qua e finisce qua l'occasione ce l'abbiamo avuta ragazzi purtroppo l'occasione purtroppo ce l'abbiamo avuta peccato bravo Aughe grande onore a lui che ci ha salvato mezza chiappa però così non si può andare non può andare tu vuoi lottare per la Champions queste partite qua le devi vincere purtroppo non va comunque ragazzi veramente così così non va bene così non va bene la partita di oggi la dovevamo vincere siamo stati graziati da Aughe poi abbiamo avuto sfiga sull'incrocio di Chessy ma ragazzi così non va bene delusissimo delusissimo